Gai, è un piacere vederti qui. Sarà bello avere finalmente il vero aiuto a disparsi di questo mongoloide. Non so che cosa hai sentito di questo lavoro, ma farai un sacco di fatica per uno stipendio di merda. Lui può essere... beh, difficile. La mia valigetta, idiota! Hai capito? Molto, molto difficile. Tu... Vai via, via! Non... hai... cervello. Coraggio, gente, sono in ritardo per una riunione. Scattare, muoversi, muoversi. Tu sei qui per soddisfare i miei bisogni. Ascolta, il trucco è... Anticipale. Ehi, che ne dici di pranzare insieme? Non mi ha concesso all'ora del prato. Benissimo, allora un drink, ecco il mio bigliettino. Evita le femmine come registe, hanno l'ovulazione. Hai idea di cosa può combinare questa cosa in una lavorazione di tre mesi? Devo aggiungere altro? Sei felice? Io odio questo! Farei una strage in questo business. Perciò finiamola con queste cazzate del giusto, gentile e generoso, perché lì fuori è... Uccidi i tuoi genitori, fotti i tuoi amici e trascogli una bella giornata! Devo solo sgridare il mio assistente mongoloide, cervello fuso per lo secolo. La gente ti sfrutta la vita ingiusta, così funziona! Hai un bel po' di spiegazioni da darci! Ti ho chiesto di chiudere quella voglia di posto! Non è così che si gestisce un business. Ah, ah, questo non è un business. Questo è show business. Devi essere un uomo per fare questo lavoro! Grazie a tutti.